Musica Amici miei bentornati ancora una volta qui online sul canale per un nuovo video Come state fatemelo sapere qui sotto nei commenti Oggi video molto interessante secondo me perché andiamo a parlare di produttività con iPad Voi lo sapete molto bene, iPad per me è uno strumento di lavoro molto importante Perché mi permette di fare molte operazioni in maniera molto leggera ovunque io sia E soprattutto perché ha una Apple Pencil e quindi mi permette di scrivere, di giochicchiare un po' con i disegni Che ambito creativo mi aiuta veramente tanto E con questo video voglio proprio dirvi o comunque mostrarvi quelle che sono le features secondo me più importanti Per quanto riguarda proprio la produttività con iPad Alcuni sono trucchi un po' segreti, altre sono dritte che voglio darvi Detto questo iniziamo e non perdiamoci di troppe ghiacchiere Partendo con il primo consiglio O meglio non tutti sanno che Quando voi avete un iPad e lo avete sulla scrivania Non lo so in borsa o da qualsiasi parte E gli avete agganciato una semplice Apple Pencil a fianco Non è fondamentale accenderlo per accedere alle note Per prendere appunto una nota al volo Ma vi basta appunto sganciare la Apple Pencil e iniziare a scrivere Per attivare proprio l'app note di Apple E perché vi voglio sottolineare questa cosa? Perché per quanto possa essere diciamo una funzione stupida Quando possa essere una funzione magari da sottovalutare Non è da sottovalutare Perché effettivamente nel quotidiano potrebbe darvi tanti tanti vantaggi Soprattutto lato velocità, lato presa di appunti Questa per esempio è una funzione che utilizzo veramente tantissimo Nel momento in cui sono in riunione E capita che diciamo si aziona un discorso E quindi senza pensarci troppo su Senza mettermi a sbloccare l'iPhone Non accedere all'applicazione eccetera eccetera Io prendo l'iPhone Pencil e inizio a scrivere Inizio a disegnare per poi condividere il documento O quel che sia con altre persone Ed è veramente molto comodo E soprattutto mi permette di sfruttare al meglio L'iPhone Pencil e l'immediatezza di una tecnologia del genere Quindi straconsigliata Tenetelo bene a mente Detto questo altre due funzioni con Apple Pencil Super essenziali Che sono state implementate proprio con iPadOS 15 La prima quella che sicuramente conoscete Perché ve ne parlo sempre E quella che potete attivare tramite un semplice swipe Nell'angolino in basso a destra Con l'Apple Pencil Che vi attiva per l'appunto Gli appunti al volo Si apre proprio una specie di finestrina Dell'app Note Dove potete per l'appunto Prendere appunti Per l'appunto prendere appunti Mamma mia Con l'Apple Pencil Il che è fantastico Non solo nel momento in cui state magari In un'altra applicazione Che ne so state facendo una ricerca Avete bisogno di scrivere qualcosa Di appuntare qualcosa Ma è molto comodo Anche nel momento in cui dovete Che ne so Installare O comunque impostare una scaletta Per quanto riguarda le cose da fare Che a me piace farlo appena Lo sapete Quello che è il mio rapporto con l'agenda Ne ho una personale Ma quando ho iPad Mi piace comunque approfondire Utilizzare al meglio questi strumenti E soprattutto è comodo Proprio per elaborare pensieri Per segnare cose È veramente uno strumento essenziale Che approvo veramente tanto Che mi ha poi anche portato A utilizzare sempre di più L'app note di Apple Parleremo in un altro video Proprio del mio nuovo kit Tech Dedicato alla produttività È cambiato tutto Ho abbandonato un po' di cose E sarà questo per sempre Mi sa Ormai l'ho utilizzo da tre mesi E quindi Ne parleremo Ne parleremo Fidatemi Detto questo Fantasica come funziona Perché per l'appunto Mi permette di sfruttare al meglio Sempre le note Con la Apple Pencil In qualunque app Voi siate Ma cosa ancora più figa È che potete metterlo da parte Per poi continuare A fare quello che state facendo E poi riprendere subito Gli appunti Nel momento in cui vi serve Con un semplice swipe Comodissimo Poi basta tappare su fine Per ritrovare poi la nota Nelle note appunto Di Apple Cosa ancora figa È Swipe Questa volta Dall'angolino In basso a sinistra Che vi aziona Sempre con la Apple Pencil Uno screenshot Perché è utile questa funzione Perché per l'appunto Nel momento in cui siete In un documento State guardando un progetto Un pdf Qualunque cosa essa sia Voi potete fare uno screenshot Modificare Che ne so Segnare qualcosina Per poi condividerla Con altri E modificare Il tutto Proprio con la Apple Pencil Che per l'appunto È uno strumento che Come vi dicevo Diversifica iPad Da altri dispositivi Lo so Adesso c'è Huawei Che ha anche inserito Una Apple Pencil O comunque una Pencil Samsung Ha anche inserito Tutte le Pencil Però diciamo Queste funzioni Vi coccolano E vi permettono Di utilizzare L'iPad Nel migliore Dei modi E in generale Di sfruttare iPad Al meglio Al 100% Quindi veramente figata Non ci perdono Perché è una semplice Perché è una semplice modifica Degli Screenshot Funzione Ancora però Più interessante È quella dedicata Agli shortcut Come vedete qui Ho inserito Un widget Da un po' Con Nuovo comando Vabbè Lasciate stare Perché adesso Si è inserito qui Perché stavo facendo Una prova per il video Poi abbiamo Start pomo Cose da fare E lavoro Per esempio E sono tutte Diciamo Shortcut Che vi permettono Di azionare Appunto Delle funzioni E nello specifico In questo caso Ho deciso di Inserire degli Shortcut Mamma mia Sbaglio sempre Per attivare Delle full Immersion E perché? Perché vi permettono Di passare Da una schermata All'altra E quindi Da una tipologia Di utilizzo Dell'iPad All'altra In due secondi Il che mi porta Ad essere Sicuramente Più produttivo Sicuramente Diciamo Meno Diciamo Proiettato Determinate Notifiche Proiettato Determinate Applicazioni E in linea Generale Sicuramente Più produttivo Ma perché? Beh vi faccio vedere Io Quando tappo sul lavoro Mi cambia tutta la schermata E che cosa mi mette? Mi mette Le notizie Mi mette il meteo Mi mette la musica Perché mi piace lavorare Con un po' di musica Mi mette gli appunti Mi mette il calendario Telegram Perché risponde ai vostri commenti Elaboro delle programmazioni E mi mette un'app Che sto provando Che poi vi farò vedere E questo cambio di interfaccia E gestione Che poi dovete fare a monte Tramite le impostazioni Delle notifiche Eccetera eccetera Vi mette in linea generale Di essere belli concentrati Su quello che effettivamente È essenziale Per il vostro lavoro Quindi Ambito produttività Questa cosa potete applicarla Anche allo studio È veramente eccezionale Come si fa una cosa del genere Semplicissimo ragazzi Ma veramente semplice Io adesso disattivo Un attimo questa funzione E vi faccio vedere Proprio la creazione Di una Full immersion Attiviamo il microfono E che cosa facciamo Beh andiamo Sicuramente nelle impostazioni Andiamo nella sezione Della ricerca E ci facciamo Full immersion Ce la cerchiamo Andiamo da questa parte E vedete che potete Configurare tutto quello Che volete Avete una personale Riposo Lavoro da fare Non disturbare Tappiamo sul lavoro E qui abbiamo Appunto Le app Che devono Portarci le notifiche Quindi le app A cui consentiamo Le notifiche Dall'altra parte Invece possiamo scegliere Come ho fatto io Una schermata home Dedicata Vedete io ho scelto Questa qui Come elaborare La schermata home Semplicissimo Voi tappate Vi create la schermata E poi la inserite Qui di nascosto Nelle altre schermate Di nascosto Nel senso che Voi tecnicamente Dovreste averle Dovreste avere Il tutto In questo modo qui Ma vi basta Semplicemente Tappare Tappare ancora una volta Su questi puntini Andare su questo V Quindi vi nasconde la pagina E tenere Semplicemente In prima impressione Questa qui Nel momento poi In cui attivate La modalità che vi serve Quindi la modalità lavoro Vi compare Solo quell'altra pagina Quindi la pagina Dedicata Solo e sicuramente Al lavoro Fighissimo Non so se mi sono spiegato Ma fidatevi ragazzi È una delle funzioni Più comode E sicuramente Più interessanti Di iPad Os 15 E non solo Questo lo potete fare Anche con iPhone Basta Riportare quello che avete fatto Di qua Da questa parte Non cambia veramente nulla Detto questo E tornando a noi L'ultima funzione Di cui Secondo me Vai la pena A parlare È il multitasking Perché su iPhone O voglio dire Su iPad È veramente ottimo Ragazzi Perché non solo Potete attivare Due applicazioni Quindi potete mettere Da una parte Che ne so Good note Da un'altra parte Google E quindi Che ne so Fare una ricerca E prendere appunti Dall'altra parte Ma automaticamente Potete anche mettere Un'ulteriore applicazione Fluttuante Se possiamo dire A display Che permette poi Magari di accedere Ad altre informazioni Ad altre cose E questo multitasking Così ben gestito Che adesso migliora Anche grazie a questi Tre puntini Quindi non avete bisogno Neanche di fare Chissà che Che gesture Vi basta semplicemente Andare qui Tappare E gestire il tutto Al meglio Avete tre opzioni Quindi full screen Quella della divisione Quindi questa qui E poi avete L'altra che sarebbe Quella fluttuante Permette di Tramite questi tre puntini Gestire il tutto In due secondi Quindi non dovete Neanche pensarci Troppo su Sono meccanismi Semplicissimi Che vi permettono Di migliorare Proprio la vostra Esperienza quotidiana Ambito scrittura Ricerca Tutto quello che volete Non lo so Non so se sono sincero Se sono stato chiaro O meno Ma sicuramente Dalle clip che ho aggiunto E dal discorso Forse che ho fatto Il tutto sarà Abbastanza Diretto Abbastanza Bello interessante Detto questo Io vi ringrazio Come al solito Per la visione Fatemi sapere Cosa pensate Di questa tipologia Di video Mi piacerebbe portare Altre Diciamo Dritte Altri consigli Per essere produttivi Con iPad Mac Eccetera Eccetera E nulla Queste sono quelle Che utilizzo io Ce ne sono altre Anche di più particolari Molto diciamo Diverse Magari non le sapete Neanche Perché sono proprio Trucchi tipo Nascosti Però secondo me Ha veramente Poco 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 senso Andare ad approfondire Cose che magari Utilizzate una volta Nella vita Queste sono le 5 funzioni Che utilizzo Quotidianamente Quelle che effettivamente Secondo me Ha senso sapere E che effettivamente Fanno la differenza Per esempio O comunque Vi riporto ancora una volta Alla full immersion Sfruttarla in questo senso È veramente Un qualcosa di Eccezionale Fidatevi Una volta che ci prendete la mano Vi cambia proprio L'approccio E vi aumenta Molto di più La concentrazione Parlando di concentrazione Ci saranno video Dedicate alla concentrazione E come rimanere belli concentrati Quindi iscrivetevi al canale Per non perdervi Nessun video Un bacio e un abbraccio Da giù è tutto Ciao a tutti Vi voglio bene